Salve a tutti, benvenuti alla bottega didattica, sono Gianfranco Marini e oggi vedremo Wise Mapping Wise Mapping è un software, anzi un'applicazione web che non necessita quindi di installazione open source, quindi è libera e serve per creare mappe, mappe concettuali, mappe di apprendimento e il vantaggio è anche che è in italiano, diciamo che contiene tutte le funzioni di base per la creazione delle mappe non è tanto raffinata dal punto di vista della multimedialità, non possiamo incorporare immagini, video eccetera ma possiamo linkarle, quindi in qualche modo recuperare con questa alternativa i contenuti multimediali questa è la pagina iniziale di Wise Mapping, dobbiamo digitare questo ecco qua, Wise Mapping dopo averlo digitato appunto saremo sulla pagina principale e potremo cliccare su login naturalmente dovremo registrarsi, registrarci, per registrarci dobbiamo cliccare su registrati ora come vedete è tutto in italiano, compiliamo la solita maschera con il nostro email, nome eccetera io adesso invece entrerò col mio account e questa è la mia dashboard, da qui posso controllare tutte le mie mappe e gestirle per gestirle cosa intendo? intendo che posso selezionare una mappa vedete questo è il menu, io adesso posso andare in mie mappe ecco qua, ho le mie mappe clicco su per esempio questa mappa qui compaiono dei pulsanti con questi pulsanti posso eliminare la mappa avere le informazioni su quella mappa vedete qui ho le informazioni su il nome della mappa, la descrizione della mappa quando è stata creata e così via e poi il pulsante Altro cliccando su Altro posso duplicare la mappa in modo da ottenere una mappa identica che voglio magari elaborare in modo diverso, la chiamerò in modo diverso, eccetera oppure posso anche pubblicarla vedremo poi come si fa condividerla, esportarla posso stamparla cliccando qui ho la visualizzazione di come sarà la mia mappa questa è una mappa di prova che avevo fatto in precedenza che altro posso fare? posso anche vedere la cronologia delle volte che l'ho aperta per modificarla e così via la cronistoria, insomma delle variazioni bene, creiamo adesso una nuova mappa basta cliccare su Nuovo do un nome alla mappa descrivo prova di Wise Mapping spero di averlo scritto bene no, non l'ho scritto bene, non fa niente e clicco su Crea comparirà così l'area di lavoro questa è praticamente l'editor della mia mappa vediamo prima alcune funzioni che trovo qui in alto a destra qui posso uscire vediamo scorciatoie le scorciatoie sono interessanti perché mi permettono di rendere più rapidi determinate operazioni come salvare le modifiche contro l'S creare un nuovo argomento e così via alcune sono abbastanza convenzionali altre invece sono tipiche di Wise Mapping bene fatto questo vediamo un po' come che strumenti ho a disposizione questa è la barra degli strumenti e cominciamo a lavorare sul nostro nodo centrale ingrandiamo con questi pulsanti si può ingrandire chiedo scusa sono ovviamente questi posso, vedete, col puntatore del mouse cliccando trascinare nella posizione che voglio la mia mappa adesso questo lo cancello bene, abbiamo ingrandito e come si fa a creare i figli di questo nodo centrale? basta posizionarsi fuori da esso e cliccare due volte adesso ne creerò quattro ecco, ne ho cliccati quattro oppure lo seleziono e clicco il tasto Tab quello con le due fraccette incrociate della tastiera ecco, questi che sono comparsi sono figli di questo come si fa a creare i figli? appunto, col tasto Tab posso creare tutti i figli che voglio bene, ho la possibilità di posizionare come voglio questi elementi per esempio questo lo posiziono qui e diventa un ramo principale quest'altro lo posso cambiare di posizione per farlo diventare un figlio e via dicendo come vedete posso fare tutti gli spostamenti che voglio adesso vediamo le operazioni necessarie per editare il testo all'interno di un nodo basta che mi posizioni su quel nodo e cominci a scrivere non c'è neanche bisogno di un doppio clic vediamo che operazioni posso fare potrei per esempio selezionare il nodo su cui voglio lavorare e aggiungere un contorno per esempio rettangolare oppure arrotondato ecco, lasciamo l'arrotondato se non mi piace il colore del bordo blu posso anche cambiare il bordo facendolo per esempio rosso ecco qua posso a questo punto lavorare sullo sfondo del nodo per esempio cliccando qui posso farlo giallo e ovviamente qui abbiamo un'altra icona che rappresenta il colore con la A e quindi posso agire sul colore del testo ecco qui l'ho cambiato posso anche fare il testo grassetto corsivo e così via bene queste sono le lezioni di formatazione più elementari che io ho a disposizione supponiamo adesso che io voglia aggiungere un link per esempio qui voglio inserire il link del mio blog scriverò il nome del mio blog selezionerò col cursore con i tasti e vedete che qui esiste una icona la solita catenella che indica il link clicco e incollo qui il link che mi sono procurato accettare ed ecco qui il mio link se clicco infatti compare il mio blog pubblicità cliccate sulla pubblicità così guadagno un sacco di soldi bene vediamo adesso gli ultimi pulsanti della nostra barra del nostro menu posizioniamoci per esempio su quest'altro topic scriviamo pippo 2 pippo non piappo e per esempio aggiungiamo un'icona qui abbiamo varie icone possiamo mettere il 2 dato che pippo 2 e abbiamo aggiunto un'icona naturalmente possiamo anche cambiare la nostra icona aggiungere altre icone eccetera eccetera vedete se la seleziono e ci clicco sopra me la numera anche questo mi cambia l'icona posso ovviamente cancellarla ancora abbiamo la possibilità di aggiungere note posiziono sul nodo in cui voglio aggiungere la nota clicco sull'icona add note e scriverò visitatelo che è un blog bellissimo accetta e qui avremo la nostra annotazione ancora cosa posso fare supponiamo che voglio aggiungere una relazione tra questo subtopic e quest'altro che sta dall'altra parte però voglio mantenerli nella loro posizione allora posso creare una relazione tra i due seleziono il topic di partenza clicco sul rationship crea una relazione e vedete lo posiziono qui naturalmente piuttosto brutta questa linea che passa in mezzo quindi seleziono la linea compaiono le maniglie e posso vedete con queste maniglie posizionarla in modo più opportuno basta provare e si impara facilmente ecco in questo modo da meno fastidio graficamente è molto meglio così cosa posso fare ancora posso cambiare il font non è a disposizione moltissimi mettiamo verdana è già dunque dove è qui è ariel adesso mettiamo times vedete è cambiato il subtopic possiamo anche ingrandirlo largo ecco ecco qua queste sono le principali operazioni di formattazione link e così via vediamo adesso questi ultimi quattro pulsanti che sono molto importanti prima di tutto condividere cliccando su condividere io ho accesso a una delle funzionalità più interessanti di questa mappa la possibilità che ho di collaborare con altre persone inserendo semplicemente in questo riquadro l'email della persona e posso anche come vedete consentirle di leggere semplicemente oppure di modificare e quindi di collaborare alla stesura di questa mappa posso aggiungere altre persone e via dicendo naturalmente adesso non ho messo il link e quindi non mi fa aggiungere nessuno però insomma abbastanza semplice il concetto vediamo quest'altra operazione pubblichiamo finalmente la nostra mappa clicco su publish e devo abilitare la condivisione prima di pubblicare clicco su abilità la condivisione e mi compaiono due etichette embedder vuol dire codice per incorporare in questo modo posso generare il codice per incorporare la mia mappa nel mio blog per esempio posso anche vedete agire sulla larghezza sulla altezza sullo zoom e così via e poi copierò questo codice ctrl c via dicendo qui invece mi da semplicemente la urla pubblica chiunque abbia questo indirizzo può visualizzare la mia mappa io la cancellerò questo è il tasto per esportare la mia mappa la mia mappa può essere visualizzata online ma io la posso anche stampare spesso i miei alunni si stampano le mappe che hanno creato online vediamo come funziona clicco e mi compare come vedete un menu che mi spiega vediamo un po' mi spiega varie cose posso selezionare una di queste voci le prime voci rendono possibile esportare questa mappa in altre applicazioni per elaborarla ulteriormente mentre a me interessano soprattutto le ultime due e cioè esportare questa mappa in formato pdf o in formato png vediamo per esempio formato png accetto ecco qua adesso la mia mappa è stata scaricata nel mio computer in formato png apriamola ecco qua questa è la mia mappa esportata in formato png la ingrandisco al massimo posso da qui stamparla inserirla in un documento e così via oppure avete visto posso esportare in formato pdf questo è il pulsante della storia di tutte le azioni adesso dovrebbe essere vuoto ma qui compariranno le varie modifiche che ho fatto per esempio in momenti diversi della stessa giornata o in giornate diverse oppure le modifiche che hanno fatto i miei collaboratori e così via cancelliamo bene abbiamo concluso qui ci sono dei tutorial ma sono in inglese e andiamo nuovamente qui ecco qua a questo punto posso aggiungere delle etichette alla mia mappa dopo averla selezionata per esempio ci metto storia questa è un'etichetta che avevo già perché è una mappa di storia oppure una mappa che riguarda argomenti di storia contemporanea voglio essere più preciso creo un'altra etichetta con scritto storia che ho scusa contemporanea posso cambiare il colore mettiamolo rosso se riesco a farla rossa eccola qua quindi abbiamo etichette di diversi colori avendo io molte mappe posso orientarmi meglio nella scelta della mappa che mi serve in quel momento se non ricordo bene questo è tutto sono stato prolisso come al solito ma ho voluto spiegarla per filo e per segno a coloro che non avessero mai usato un'applicazione del genere vi ringrazio e alla prossima